Un mese intero per muovere i primi passi nella palla canestro. La scuola Basket Arezzo ha infatti ripreso la propria attività con il Midi Basket a Nova Verta e ha pianificato una serie di allenamenti gratuiti in programma dal 28 settembre al 29 ottobre che rappresenteranno un'occasione rivolta ai bambini e le bambine nati tra il 2009 e il 2016 per provare la disciplina. Ogni aspirante atleta avrà a disposizione quattro lezioni pomeridiane ospitate dal Palasport Estra Mario D'Agata dove il gioco e il divertimento saranno gli strumenti per vivere le prime esperienze sul parquet fornendo anche ai genitori un momento per incontrare istruttori e conoscere lo sport. L'obiettivo del mini basket è quello di gettare le basi per un'armoniosa crescita motoria di ogni giovane cestista attraverso un'attività ludica e non agonistica finalizzata ad appassionare alla pallacanestro. Per raggiungere questi obiettivi la SBA ha previsto uno staff tecnico con alcuni dei suoi migliori istruttori. L'unico requisito per poter partecipare è quello del possesso del certificato di donità alla pratica sportiva non agonistica per chi è nato tra il 2010 e il 2016 o del certificato alla pratica sportiva agonistica per il 2009 per fissare il primo allenamento di prova è necessaria la prenotazione. La scuola basketarezzo riapre le sue porte ai più piccoli spiega il presidente Mauro Castelli per questa ragione non abbiamo pensato a una sola giornata di Open Day ma un mese intero dove gli aspiranti cestisti potranno provare la disciplina gratuitamente nel rispetto di tutte le misure per la prevenzione del contagio da Covid-19.